carissimi amici e amiche ben ritrovati bentornati a una nuova puntata del circo di catechesi bibliche sui libri sapienziali che cade in pieno avvento oggi il 13 di dicembre festa della grande santa lucia martire veramente a metà del percorso della dell'avvento con un soggetto e con un tema che è quanto di più indicato in assoluto forse che si possa pensare a prepararci al santo natale perché il santo natale se ci pensiamo bene non è altro nient'altro che il mistero delle nozze di dio con l'umanità sapete che il mistero nuziale mistero di unione due che diventano una cosa sola e non c'è niente che è diventato più una cosa sola diciamo così della natura umana di gesù assunta in unione ipostatica quindi nel soggetto della stessa persona del verbo in unione comunque con la natura divina quindi capite è un dio e l'uomo che si incontrano nella maniera più perfettissima possibile non si dice più perfettissima ovviamente no ma è una licenza più che poetica motivata un po dall'enfasi dalla dalla gioia no sappiamo però che questa unione si è realizzata attraverso uno strumento che è la creatura in assoluto più unita a dio che ci siamo è stata che è male santissima e che ha avuto la grazia di non soltanto di avere un'unione con dio ma di essere stata strumento lei stessa dell'unione di dio con l'umanità quindi ha dato la carne proprio sua il suo codice genetico su cellule all'umanità del figlio di dio ecco tutto questo perché dico tutto questo perché oggi affrontiamo il tema del cantico dei cantici che ricorderete l'ultimo della grande trilogia sapienziale no proverbi coelet o ecclesiaste cantico ne ho parlato una puntata precedenti no padre della chiesa dicevano questo è il trittico pensato dall'altissimo per i principianti che quindi devono essere allettati dai richiami della sapienza il libro di proverbi poi ci sono quelli coefficienti che vogliono andare avanti che devono passare attraverso il crogiolo il travaglio della penitenza della purificazione questo non ce lo risparmia nessuno che le mie carie e per quello ci attrezza il coelet che abbiamo visto nella puntata precedente e poi si giungono all'unione con dio però i perfetti il terzo stadio no fuori cioè in campo mistico è il momento delle nozze mistiche dell'anima con dio il cantico dei cantici non è altro che il cantico di amore tra uno sposo e una sposa che vedremo è stato da sempre inteso in forma allegorico simbolica a vari strati a vari livelli e che trova come vedremo nella coppia di osu maria proprio non soltanto il prototipo prototipo ma anche l'archetico ecco veramente proprio il punto di riferimento primario fondante e normativo quindi ecco perché la migliore preparazione a natale perché natale è mistero di unione figlioli miei cari noi siamo stati creati per essere uniti a dio la nostra anima tende a questo ma non soltanto la nostra anima tutto il nostro essere anche la nostra carne il mio cuore e la mia carne esultano a dio vivente si ragiona un bellissimo salmo oppure nel salmo 62 o dio tu sei il mio dio allora ti cerco di te assete l'anima mia sì ma te neanche la mia carne come terra deserta arida senza acqua anima e carne anima e corpo un po' come nell'unione responsale che è un'unione totale no? non è soltanto unione di anima ma è un'unione anche corporea purtroppo vabbè allora andiamo a vedere qualcosa di questo testo è anzitutto il più grande poema d'amore mai scritto che narra appunto in forma dialogica l'amore tra un re e una donna chiamata nel cantico la sulammita volgiti o sulammita sono otto capitoli il testo è molto breve suddivisi in un piccolo prologo i primi quattro versetti del primo capitolo cinque poemi e due appendici l'autore come si scrive e si legge nel primo versetto è di nuovo Salomone uno dei grandi autori biblici qual è il significato allegorico evidente? il cantico dei cantici rappresenta una allegoria dell'unione mistica tra l'uomo e Dio cioè, figurati miei cari, noi dobbiamo obbligarci ad una cosa quando pensiamo a Dio e al rapporto con Lui noi non possiamo e non dobbiamo immaginarci nient'altro che la grammatica dell'amore l'alfabeto dell'amore quello è il rapporto che Dio vuole con ogni creatura ma siamo stati creati dall'amore con un atto di amore gratuitamente per amore e per amare per conoscere e ricevere l'amore di chi ci ha creato e già il fatto che ci siamo che siamo stati creati è già un atto estremo di amore ma questo è nulla perché ci ha creati per ricolmarci di amore e per essere ricambiato del nostro amore il progetto originario di Dio sull'uomo che passava dal paradiso terrestre al paradiso celestero era un interrotto canto d'amore purtroppo in questo canto vi sono introdotte le note gravemente stonate causate dal peccato originale dai peccati attuali per cui questo è tutto quanto un discorso da ripristinare da ricostruire e lo possiamo fare però originalmente non c'era nient'altro che questo il donamento di Dio lui non cambia noi sì ma lui no c'era e non c'è nient'altro che questo ora quali sono i livelli di quest'unione il primo livello quello proprio paradigmatico che abbiamo già visto archetipico prototipico come si preferisce è l'unione tra Gesù e la Madonna l'unione tra Gesù e la Madonna e Maria Santissima non era soltanto un amore di madre verso il figlio troppo poco le forme di amore possibili e quelle anche più belle sono l'amore sì certamente paterno e materno l'amore fraterno sentiremo dire nel cantico sorella mia sposa l'amore appunto sponsale l'amore filiale quel canto vergine madre figlia del tuo figlio soltanto tra Gesù e la Madonna capite no? lei era la madre ma era anche la figlia e poi l'amore sponsale tutti ci stanno chiaramente il cantico dei canti ci salta insomma ho creato l'amore sponsale lo vedremo l'unione tra Gesù e la Chiesa l'unione tra Gesù e la Chiesa è un'unione sponsale la Chiesa è la sposa di Cristo ora quando si parla di Chiesa figlioli miei cari e adesso non so se è il caso quando si parla di Chiesa si parla di una cosa grande non si parla del Vaticano come certi laici quando sentono Chiesa sentono Chiesa Chiesa uguale Vaticano quindi cose cose un po' strane insomma queste gerarchie un po' corrotte come si vedono in certi film in certe serie che sembra insomma che la Chiesa di Cristo sia una conventicola di intrallazzatori o di persone insomma più o meno corrotte cianciassero pure come vogliono la Chiesa e non soltanto questo la Chiesa non si identifica con nessuna sua manifestazione storica contingente tradotto questo parolone pochino cioè oggi la come dire la dimensione terrena della Chiesa che la Chiesa ha delle la Chiesa di Cristo non è a parte fatto cioè ha tre dimensioni c'è la Chiesa trionfante che sta in paradiso la Chiesa trionfante che sta in purgatorio e c'è la Chiesa militante che sta sulla terra ma la Chiesa in realtà nel libro dell'Avocalisse è la fidanzata è la sposa dell'agnello chi sono questi? sono i santi sono cioè in realtà fa parte della Chiesa solo il Santo bisogna fare attenzione all'applicazione di questo principio perché ci sono stati eretici nel corso della storia che applicavano questo principio in maniera errata cioè volevano vedere tutti i santi già qui su questo pianeta Terra diceva chi non è santo sta fuori dalla 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 Chiesa non funziona così non si sta fuori dalla Chiesa se non si è cioè quelli che non sono santi e però che non possiamo sapere se un giorno si convertiranno potrebbero essere dei membri della Chiesa anonimi tipo laici ma anche magari qualche qualche autorità veramente corrotta che a un certo punto però si converte si confessa e passa dalla corruzione a a un cammino di santità può succedere questo qui quindi la separazione tra i buoni e i cattivi diciamo così per usare un'espressione un po' banale però facilmente comprensibile come sta scritto nella parabola del Vangeli che si farà alla fine quella definitiva al giudizio universale è lì che vedremo la fidanzata la sposa dell'agnello che cos'era a Chiesa però questa Chiesa che attenzione la Chiesa di Cristo è una e si trova nella Chiesa Cattolica ma nella Chiesa Cattolica sono anche tanti personaggi indegni lo sappiamo quelli stanno dentro con il corpo ma stanno fuori con l'anima e c'è possibilità che qualcuno sia fuori col corpo perché non sa che la Chiesa è questa e che bisogna necessariamente appartenervi per trovare un cuore con Dio e ci sta dentro con il cuore no? però la Chiesa come diceva Santa Teresa di Gesù il bambino ha un cuore bruciato dall'amore dall'amore verso chi? dall'amore verso Gesù verso il suo Signore cioè quando si nomina una Gesù e Maria cioè un cattolico diciamo così degno di questo non capisce più niente non capisce non capisce più niente per per la portata insomma per l'immensità dell'amore che il cantico più di ogni altra cosa ci dice questo fino a quando non si aprono le grammatiche dell'amore e il nostro rapporto con Dio non si trasforma in questo modo siamo ancora molto lontani questa unione tra Gesù e la Chiesa come corpo mistico quindi come l'insieme di quelli che si chiamano tra l'altro tecnicamente predestinati anche qui si apre un altro tema è composto però di singoli perché per Dio che che ne dica insomma qualche commentatore un po' scioglie per Dio contro il singolo perché per Dio ogni anima è un unicum non è per Dio lo è punto e basta è un irripetibile la parabola la famosa parabola della pecorella smarrita ci fa capire che una vale come 99 quella smarrita e per cui vale la pena percorrere deserti e territori scorsesi per andarlo a ritrovare e riportarla a casa ma questo è vero perché per Dio uno più uno non fa due ma fa uno capiamo nel cantico dei cantici c'è anche un altro livello che è l'allegoria dell'amore umano santamente vissuto l'amore sponsale soprattutto che nonostante la ferita mortale certamente del peccato originale può e deve essere riscatato e redento non per niente c'è un sacramento per questo che consente di poter vivere la grammatica dell'amore in maniera meravigliosa certo questo non si improvvisa però è possibile il linguaggio del test è molto forte come vedremo nei brani scelti che leggeremo a sfondo a tratti addirittura erotico in effetti il linguaggio sponsale amoroso rappresenta un pallido riflesso degli emplessi e statici di unione con Dio purtroppo noi qui siamo inquinati dopo il peccato originale è un disastro figli dei miei cari io spero però che il Signore conceda a tutti noi di riuscire a sfuggire diciamo almeno con il pensiero a la maledizione che ci portiamo dietro perché è una maledizione veramente il resto dopo il peccato originale l'arbero è stato il serpente è stato maledetto il suolo è stato maledetto sia il fuoco maledetto sia il suolo a casa tua quindi proviamo a pensare quindi astraendoci da questa realtà proviamo a ripensare anche a tante cose che si leggono nei primi due capitoli di come era la condizione dell'uomo prima della colpa come era il rapporto tra lui e la donna prima della colpa e quindi in forza di questo cerchiamo di comprendere anche cosa sarebbe stato fin da questa terra cosa che adesso è molto minata il mistero dell'uomo romano bene andiamo a leggere dei brani scelti perché come sempre la cosa principale di questi incontri è la lettura sono quattro brevi stracci questo è un libro da leggere e da gustarsi ho avverto che l'ebraico del cantico è difficilissimo quindi non mi avventurerò in scritti in lettura di testi originari ebraici perché molti brani sono a sfondo poetico già l'ebraico è difficilissimo in prosa in poesia diventa praticamente impossibile non è certamente alla mia portata come certi salmi che sono veramente molto molto difficili da decodificare in ebraico quindi faremo uno stile un pochino differente dal solito che lo vedrete per ragioni di questo genere perché è veramente difficile no? cambio per chi segue la diretta con la condivisione del passando alla tavola biblica prima che ci andiamo a vedere il primo brano è il prologo che dice così cantico dei cantici che è di Salomone mi baci con i baci della sua bocca si le sue tenerezze sono più dolci del vino per la fraganza sono inebrianti i tuoi profumi profumo lezzante al tuo nome per questo le giovinezze ti amano attirami di tra te corriamo mentre lo duca il re nelle sue stanze gioiremo e ci rallegreremo per te ricorderemo le tue tenerezze più del vino ha ragione ti ama allora il cantico si apre evidentemente chi parla qui è la sposa è chiaro no? perché le giovinezze ti amano mi introducherene nelle le sostanze e comincio subito mi baci con i baci della sua bocca mamma mia questo ci fa capire che i baci sono la forma diciamo così di espressione dell'amore per antonomasi e in mistica ve l'ho detto tantissime volte volete andare a studiare le fonti sono attestati baci baci dati dal nostro signore Gesù Cristo animo concrete in carne e os e anche e anche ho detto tante volte danna madonna il beato arono della 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 rupe ho detto altre volte che in teologia mistica noto ordinariamente sono note ordinariamente le nozze mistiche il matrimonio mistico di Gesù con l'anima con tanto di scambi di anelli e cose ovviamente ma sono note anche le nozze mistiche di Maria con alcune anime maschili poi tra l'altro cioè il dimorfismo uomo donna io questa è una cosa che mi sono convintissimo si riverbera anche in questi tipi di rapporti veramente particolari mistici soprannaturali che cosa afferma la sposa le tue tenerezze sono più dolci del vino qui parla qualcuno che lo conosce lo sposo ecco perché la prima protagonista era Madonna Dio è tenerezza infinita con lui si sta benissimo non bene di più ha proprio perfetto agio conoscendo quella cosa bellissima che è appunto la tenerezza che tutti cerchiamo e che raramente si trova anche nelle nelle più belle tra le relazioni le tue tenerezze sono le più dolci del vino inebrianti i tuoi profumi vedi che sono cose molto molto cioè anche qui i profumi no adesso qui col cantico andiamo in mistica noi siamo stati da poco tempo a Schio Schio è una località nota per chi la conosce per essere stato luogo di manifestazione di profumi da parte di Maria Santissima ho fatto sentire il suo profumo lì che è un profumo che si sente anche quella famosa croce che c'è custodita lì dentro una profumata con un fortissimo intenso odore che assomiglia a quello della rosa ma è quello ma non è quello perché è un odore celeste tutti raccontano che le apparizioni di padre Pio sono caratterizzate spesso dai profumi noi utilizziamo spero tutti lo sappiamo nei sacramenti un olio profumato che è il crisma che è quello più importante tra gli oli sacri perché è l'olio con cui si fanno le consagrazioni è l'olio che si usa per consagrare il battezzato per consagrare il cresimato per consagrare il sacerdote per consagrare l'altare per consagrare i vasi sacri anche se adesso quest'ultima operazione si fa quasi più ahimè perché perché profumo lezzante è il tuo nome sapete che il profumo misticamente qui è tutto ragazzi il cantico dei cantici è tutto quanto così sono tutte interpretazioni mistico simboliche quindi il profumo letteratura spirituale rappresenta le virtù mentre la puzza rappresenta il vizio sapete che alcune anime di santi avevano il dono che se incontravano un peccatore sentivano tutta la canta la puzza orribile che emanava la sua anima che raccontava essere ben peggio di un cadavere in putrefazione che è proprio una puzza per antonomasia quindi anche noi un giorno diventeremo cadaveri in putrefazione il diventare cadaveri il fatto che conosceremo sorella morte la conseguenza diretta del peccato perché il cadavere che siamo interiormente e purtroppo lo siamo stati tutti perché il peccato in generale abbiamo contratto tutto lo vedremo esteriormente e poi attirami dietro a te corriamo vedete bellissimo no la sposa che ha già conosciuto lo sposo però chiede di essere ancora attirata nessuno può venire a me vi ricordate cosa dice Gesù se non lo attira è il padre mio noi non possiamo andare da soli dall'altissimo anche se lui è tutto amore non lo faremo mai non lo faremo e non lo possiamo fare ci vuole l'attrattiva l'attrattiva va chiesta attirami dietro a te mi introduca il re nelle sue stanze chi è che ha letto il castello interiore di santa Teresa d'Avila le sette stanze e quelle sono le stanze del re o meglio la stanza del re santa Teresa d'Avila spiega che è la settima dove se ci arriviamo si consuma il matrimonio mistico ed è la parte più profonda dell'anima dove il re santa Teresa è seduto come su un trono e che succede se ci introduciamo nelle sue stanze che gioiremo e ci rallegheremo chi conosce questo sperimenta la felicità e si chiude a ragione ti amano certo che ti amano è impossibile non amare l'amore non ama Dio solo chi non lo conosce per quello che è ma non lo conosce per quello che è chi sta ancora impastato invinghiato invischiato nelle tre pastoie del peccato questo è il prologo poi andiamo a vedere un'altra cosa cosa dal secondo poema allora in particolare il capitolo secondo i versetti 8 17 allora una voce il mio diletto eccolo viene per i monti ecco tutto passando per lì ne somiglia il mio diletto a un capriolo ad un cerbiatto eccolo 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 egli sta dietro il nostro muro guarda dalla finestra spia attraverso le inferiate ora parla il mio diletto e dice alzati amica mia mia bella e vieni perché ecco l'inverno è passato e c'è stata la pioggia se n'è andata i fiori sono apparsi nei campi il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna il fico ha messo fuori i primi frutti e le vite fiorite spandono a buon fraganza alzati amica mia mia bella e vieni o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia nei nascondigli dei dirupi mostrami il tuo viso fammi sentire la tua voce perché la tua voce è soave il tuo viso è alleggiato e poi prendeteci le volpi le volpi piccoline che guastano le vigne perché le nostre vigne sono in fiore il mio diletto è per me e io per lui e gli pascola il greggio fra i gigli prima che espiri la brezza del giorno si allunghino le ombre ritorno al mio diletto somigliato alla gazzetta alla gazzella o al cerbiatto scusate sopra i monti degli aromi amici cari qui ci potremmo fare le quattro di notte speriamo cercherò di essere breve allora una voce il mio diletto dai andiamo a fare l'interpretazione del via con la bibbia lo spirito soffia dove vuole e ne senti la voce ma non sai di dove viene e dove va la voce la voce di dio che è altro passo del vangelo ricordate quando il vangelo di san giovanni quando gesù sta in mezzo ai greci dicono ma vogliamo vedere guarda signore che ci stanno i greci ti vogliono vedere è giunto allora che sia glorificato il figlio dell'uomo se il chico di il figlio interno non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto padre glorifica il tuo nome venne una voce dal cielo l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò la voce del diretto ordinariamente non è udibile dai sensi ma la voce si sente interiormente allora si sente questa voce no a volte non è la voce del diretto è la voce di chi ne prepara l'incontro chi era san giovanni battista l'abbiamo ascoltato una domenica scorso ho detto che questo è proprio calato nel momento giusto voce di uno che grida nel deserto preparate la via del signore ecco lui viene saltando per i monti e balzando per le colline cosa sono queste cose no i monti sono le virtù eroiche le alte vette le colline sono le virtù ordinarie ma il nostro diletto salta e balza per eroismi e atti di virtù lì si trova ecco egli sta dietro il nostro muro guarda dalla finestra spiegata verso l'inferente cos'è questo muro il nostro muro è la nostra volontà è la nostra volontà lui non fa niente senza che quel muro sia da noi abbassato oppure che le finestre e le porte siano aperte questo dobbiamo farlo noi e a un certo punto il diletto l'amato il dodì in ebraico bellissimo dice alzati amica mia mia bella e vieni perché ecco l'inverno è passato c'è stata la pioggia se n'è andata i fiori sono apparsi nei campi il tempo del canto è tornato la voce della tortura ancora si fa sentire nella nostra campagna e poi tutte le altre immagini l'inverno è passato il cantico dei cantici è il cantico dei perfetti cos'è l'inverno che è passato il tempo della tribolazione il tempo della purificazione non si giunge ad una grande riunione con Dio se non si passa attraverso grandi tribolazioni per entrare nel regno di Dio bisogna passare attraverso grandi tribolazioni figlio se ti presenti per servire il Signore preparate la tentazione oppure per il bellissimo Salmo il 33 molte sono le prove che attendono il giusto ma lo libera da tutto il Signore il tempo della prova è il tempo della tribolazione è il tempo della purificazione è il tempo della sofferenza chiamiamolo come vogliamo è l'inverno è l'inverno e attenzione il verbo che dice alzati è kumi ebraico a tratti e poetico però sono anche dei versetti come qui sono molto comprensibili kumi lach raiati yafati alzati amica mia mia bella e vieni dopo la grande tribolazione il diretto chiama e dice e adesso vieni e cominciamo a vivere una vita di unione sponsale insieme e quindi l'inverno è passato la peggio è cessata oh i fiori sono apparsi nei campi i fiori sono un'altra allegoria che designano i fiori profumano no? quindi cosa sono i fiori? i fiori sono le virtù il canto il tempo del canto è tornato cantare sapete che il canto un tempo nei monasteri si cantava tutto perché il canto è proprio di chi di chi esulta di chi gioisce cantare è una cosa meravigliosa cantare al Signore è la cosa più bella che esiste in assoluto cioè gli si dà il fiorfiore un tempo quando si celebrava la messa in Vetus stavano certe messe cantate lì che era una tantissima roba il tempo del canto è tornato cioè la messa è l'unione somma del cielo sulla terra con la terra noi abbiamo il nostro diletto il nostro sposo che scende si fa di nuovo carne si immola per noi e si fonde con noi dandosi il nostro cibo diventa realizza rimanete in medio in voi dimorate in medio in voi io sono in voi e voi in me il tempo del canto è tornato poi il figo ha messo i primi frutti ancora sapete che il figo è il e le viti no il vino figo e vite sono immagini che Gesù usa ampiamente nel Vangelo quante volte usa il figo per fare le parabole il figo seccato per esempio o le viti sono la vita e voi tralci no il figo è un frutto dolcissimo come tutti quanti sappiamo e dalle vite si trae il vino il vino poi mi raccomando non possiamo ubriagarci noi non dobbiamo ubriagarci però un goccettino di vino non nei giorni di penitenza non nei giorni di digiuno per carità sappiamo che in questo mondo dobbiamo essere anche un pochino ascetici un po' tanto possibilmente però le domeniche per esempio dai il vino Gesù l'ha preso anche per per consagrare per darci il suo sangue no perché perché il vino è il vino messianico è la bevanda dei banchetti nuziali simboleggia la carità non la carità la carità è l'amore ardente il figo simboleggia la la straordinaria dolcezza questo per capirlo un po' basta contemplare Maria Santissima oh oh mia colomba attenzione colomba in ebraico si dice Iona no il profeta Giona Giona significa appunto la colomba che stai nelle fenditure della roccia le fenditure della roccia chi è la roccia bebevano quella roccia spirituale dice un po' quella roccia era Cristo che vuole stare nelle fenditure della roccia la nostra roccia c'era le fenditure e come non c'era le fenditure ce ne ha cinque le fenditure cosa dice la bellissima perché era di Sant'Ignezzo di Noiol quella che si fa come ringraziamento dentro le tue piaghe nascondimi o no anima di Cristo santifica mi corpo di Cristo salvo mi sangue di Cristo in ebria vedete il sangue di Cristo in ebria mi le vite sfiorite spandono fra fragranza acqua del costato di Isola mi passione di Cristo conforta mio buon Gesù salviscimi dentro le tue piaghe nascondimi mia colomba che sta nelle fenditure della nocce le colombe e chi ha la colomba chi rappresenta la colomba lo spirito santo quindi la colomba chi è la colomba l'anima innamorata di Dio la colomba lo spirito santo sappiamo che l'amore è essenziale della Santissima Trinità perché procede per via d'amore dall'amore del padre e del figlio e quindi anima innamorata che stai al sicuro se noi stiamo nelle fenditure della roccia ma chi ci va a prendere lì lì non ci prende nessuno i diavoli se ne possono tranquillamente andarsene all'inferno e lasciarci in pace se stiamo lì dentro lo dono proprio forza e dice mostrami il tuo viso fammi sentire la tua voce cioè il desiderio che Dio stesso ha di che gli diciamo al nostro Signore la tua voce è suave il tuo viso è alleggiato contento il Signore di dire la nostra voce che cosa gli diciamo oh poi ci stanno i guastafeste le volpi le volpi piccoline che guastano le vigne via via portatele via anche qui andate a dire a quella volpe che cosa che è che cosa fa la volpe perché Gesù chiama Erode Antipa la volpe e perché la volpe che cosa sono le volpe che devastano la vigna la devastazione qual è il peccato che produce una devastazione allucinante dentro le nostre anime è la lussuria amici cari ecco perché Gesù chiama Erode Antipo la volpe si la volpe dice ma la volpe è un animale che è noto per la sua astuzia scaltrezza in questi contesti sicuramente indica altro quindi se si capisce questo qui niente volpi nelle vigne perché il mio diletto è per me ed io per lui bellissimo Egli pascola il gregge fra i gigli lui pascola fra i gigli il giglio è la persona che è pura è la purezza massimamente ordinariamente chi può gustare al massimo le fragranze dell'amore di Dio è l'anima vergine perché la verginità è proprio colui che sta alla come dire rinuncia alla pur bellezza dell'amore umano e soprattutto alla violazione dei sigilli posti dall'altissimo e inviolabili per amore di Dio e quindi è chiaro che di per sé parte da una posizione privilegiata la madonna si deve chiamare la vergine con la v maiuscola la santissima vergine la beata vergine maria si chiama sempre così il titolo di vergine gli si deve dare praticamente sempre perché lei è la vergine per Antonomasi e lei è andata così a fondo nel rapporto con Dio per questo suo stato noi dobbiamo fare una super crociata figlioli miei cari di verginità e anche le persone che sono chiamate nel matrimonio e quindi il giorno la verginità la perderanno la devono perdere santamente perdere la verginità è una devastazione immensa specialmente quando avviene in maniera disordinata cioè fuori del matrimonio non scherziamo mai con queste cose e non siamo leggeri e chi di noi su questo ha peccato chiede al Signore il dono della contrizione profonda e poi prima che espire la brezza del giorno e si alluminano le ombre ritorno a mio diletto sopra i monti degli aromi questi sono i momenti in cui ogni tanto quel diletto che c'è si nasconde un po' e lì c'è il grido dell'anima innamorata che dice ritorna 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 vediamo un po' e lo immaginavo siamo a minuto 45 lo sapevo io siamo andati un po' oltre siamo andati terzo poema ma non ce la faremo a farli tutti andiamo veloci dai 4 1 15 io lo sapevo che andava a finire così perché il cantico oh guardate qua come sei bella amica mia ancora riparo allo sposo come sei bella gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo dietro il tuo velo vedete dietro il tuo velo le tue chiome sono un greggio di capri che scendono dalle pendici del gala i tuoi denti vedete su cui cominciano i particolari i particolari quando vediamo i particolari dobbiamo pensare a una cosa per esempio ecco ecco perché le alterazioni del corpo io ve lo dico figlioli e cari poi fatene l'uso che volete sono degli atti che Dio non gradisce ma li sgradisce non li vuole ogni minimo dettaglio di ogni corpo umano è plasmato con maestria unica dall'altissimo e non si tocca i tuoi chiome sono un greggio di capri i tuoi denti sono un greggio di pecore che risalgono dal bagno tutte forciate da una pagliata senza senza compagno come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia come spicchio di melagrana la tua goda attraverso il tuo velo arrivate oltre nomi nel velo le nostre care amiche di sesso femminile considerino questa cosa mi raccomando come la torre di Davide la torre di Davide il tuo collo il collo è di particolari su cui si ferma l'attenzione dello sposo particolari corporei costruita a guisa di fortezza mille scudi vi sono appesi tutti armature di prove vedete di prove qui è chiarissimo torre di Davide turrista vidica è uno dei titoli mariani quindi qui sta parlando della nostra regina torre di Davide guisa di fortezza mille scudi vi sono appesi tutte armature di prove vogliamo diventare leoni di Dio e basta andare in piena addosizione a Madonna guardate per qui i tuoi seni sono come due cerbianti gemelli di una gazzella che pascolano fra Egili i seni che pascolano fra Egili eh che facciamo io qui devo parlare per forza di quell'altro fenomeno mistico attestato San Domenico San Bernardo prima di San Domenico il beato Arono della Roche o della Luca come preferiti San Giovanni ed Sicuri al 100% ricevono il fenomeno della Lactazio Maria ed erano evidentemente tutte anime assolutamente vergini perché non si può assolutamente ricevere un dono del genere se non si è Gigli vedete prima che spiri la presta della giornata si allunghino le ombre e me ne andrò al monte della Mirra e alla colina dell'Incenso la preghiera l'Incenso è il sacrificio tutta bella tu sei amica mia in te nessuna macchia e qui se andiamo a vedere dove sta la vulgata tota pulcra es amica mia et macula non est in te no? mettiamo al posto di amica mia Maria e vediamo il tota pulcra tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te quindi vedete no? come oh e poi vieni con me dal Libano il Libano è il luogo veramente simboleggiante l'amore per l'antonomasia no? con me dal Libano vieni questi sono tutti quanti i posti affascinanti della geografia palestinese osserva dalla cima dell'Amana dalla cima del Senire dell'Ermon dalle Tane dei Leoni tu mi hai rapito il cuore vedete sorella abbiamo già sentito amica diletta sorella e sposa vedete le forme di amore come sono tutte quante comprese no? tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo con una perla sola della tua collana qui è proprio Gesù che parla sicuramente a Maria Santissima questo è ad litteram la Madonna ha rapito il cuore di Gesù e con un solo suo sguardo gli sguardi d'amore no? che conosce gli scritti di Luisa come guardiamo noi Gesù noi possiamo guardare Gesù ma certamente sì abbiamo due posti dove il crocifisso e l'eucaristia quando quando Gesù quando Gesù è esposto quando il sacerdote alza l'ostia nella consagrazione quando guardiamo in quell'istante Gesù per un attimo prima di ricevere una santa comunione ma come lo guardi noi dobbiamo rapire il nostro Dio con i nostri sguardi lo sguardo d'amore lo sguardo dell'innamorato quando persone sono innamorate ma come si guardano avete visto che ci sono gli emoti con gli occhi con i cuoricini no? ma due innamorati hanno lo sguardo con gli occhi con i cuoricini perché lo sguardo è una delle manifestazioni stupende non arriva forse alla alla bellezza del bacio all'intensità del bacio ma è una bellissima manifestazione d'amore no? quanto sono sovi le tue carezze sorella mia sposa quanto più deliziosi del vino le tue carezze vedete sì il linguaggio non è corretto dire questo è il linguaggio dell'amore il bacio la carezza non sono gesti di per sé peccaminosi assolutamente no purtroppo il bacio il bacio spinto lo è diventato ma a causa della concupiscenza non per una sua intrinseca cattiveria perché se un bacio fosse intrinsecamente cattivo mai Gesù avrebbe dato un bacio a una delle sue spose mai Gesù non fa i peccati e se una cosa è intrinsecamente cattiva non è che diventa buona se il soggetto è l'altissimo non è possibile quindi quella cosa è una cosa buona che purtroppo però è stata aggredita è stata appestata è stata degradata è stata vulnerata è stata inficiata dalla maledetta concupiscenza spiega benissimo Alessandro VII nella sua sentenza dove appunto specificava il bacio fuori del matrimonio è purtroppo fenomeno che dire pericoloso è dire un eufemismo poi ancora le tue labbra le tue labbra stillano miele vergine o sposa vedete stillano miele vergine o sposa c'è miele in latte sotto la tua lingua la lingua le labbra la lingua il profumo delle tue vesti le vesti miele miele e latte la terra dove scuola il latte latte e miele miele e latte sotto la tua lingua sapete che il miele è la è la dolcezza no il latte è l'alimento completo per antonomasia qui parla però di evidentemente no le tue labbra stirono miele vergine o sposa c'è miele latte sotto sotto la tua lingua le labbra che stillano miele le labbra si muovono quando quando parlano no e latte cioè san paolo dice nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca ma parole buone che possano servire per l'edificazione la parola la parola nutre può nutrire o può attossicare chi l'ascolta può essere una parola bella dolce o può essere una parola brutta e poi ancora Maria Santissima giardino chiuso sei tu sorella mia sposa giardino chiuso montana sigillata e poi i tuoi germogli sono un giardino di melagrande con i frutti più squisiti e qui una serie di essenze nardo zafferano cannella cinnamommo alberi d'incenso mirralo e infine fontana chirro e giardini pozzo d'acqua e via ruscelli sgorganti da Libani questo soltanto un saggio della bellezza di questi brani poi almeno la lettura veloce 5 10 16 e poi l'epilogo e poi chiudiamo velocissimi il mio diretto è bianco e vermiglio riconoscibile fra mille fra mille il suo capo è oro oro pure i suoi riccioli grappoli di palma neri come il corpo questo è Gesù eh i suoi occhi come colombe sullo sciale d'acqua i suoi denti bagnati nel latti posti in un castone le sue ganci come viola di balsamo viola di erbe profumate le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra eh le labbra virginali di Gesù che insegnavano la penitenza no le sue mani sono anelli d'oro incastonati di gemme di Tarsis il suo petto è tutto davvero tempestato di zaffiri le sue gambe colonne di arabastro posate su basi d'olio il suo spetto è quello di Libia magnifico comunque come c'è dai ragazzi questa è una rappresentazione simbolica del nostro grande Dio il Signore Gesù vediamo leggiamo l'ultimo brano poi non so se ci sarà un modo di tentare qualche decodificazione l'ultimo brano è l'epilogo 8 5 7 che è bellissimo adesso andiamo a vedere proprio l'epilogo l'epilogo quindi chi è con lei che sale dal deserto ancora questa è un'altra immagine di Maria appoggiata al suo diretto sotto il mero ti ho svegliato laddove ti concepì tua madre laddove la tua madre la tua genese ti parto lì attenzione adesso a questo passaggio che bellissimo mettimi come sigillo sul tuo cuore sigilli di amore eterno come sigillo sul tuo braccio perché forte come la morte dell'amore tenace come gli inferi della passione le sue vampe sono vampe di fuoco una fiamma del Signore le grandi acque non possono spegnere l'amore nei fiumi travolgerlo se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore non avrebbe che dispregio quindi di nuovo qui c'è una narrazione meravigliosa enfatizzata del mistero dell'amore amore che è attenzione sigillo sul cuore sigillo sapete che per chi ci crede ai tapiranga San Giuseppe ha mostrato il suo cuore e l'ha fatto vedere come è un cuore castissimo il cuore di San Giuseppe è sigillato o meglio marchiato a fuoco con la M la I e la croce cioè con il retro della medaglia miracolosa marchiato a fuoco sul cuore e come sigillo sul braccio il braccio è segno delle opere quindi avrai il Signore di Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze a disposizione sue il braccio e fino a che punto l'amore è forte come una morte le grandi acque qui di nuovo sono una carissima la donna fugge nel deserto e il diavolo gli vomita dietro una montagna una marea di acque per travolgerla e lei scampa le acque non possono spegnere l'amore nei fiumi travolgerlo non c'è non c'è non c'è prezzo figlioli i miei cari per l'amore l'amore non si cambia con niente se uno desse tutti i suoi beni della sua casa per l'amore non ne avrebbe che dispregio dispregio ecco questa è una piccolissima sintesi mi vergogno un po' perché un testo così bello versetto per versetto con i commenti alle coici dovrebbero portarci una giornata intera questo è quello che siamo riusciti a fare il resto leggete il cantico e fate aiutare lo Spirito Santo e Dio vi benedica la Santa Vergina di Proteca